Negli ordini dell'amore di Bert Ellinger i principi guardano direttamente allo spazio del cuore delle relazioni tra i genitori, i figli, i fratelli, i cugini e tutti i membri del sistema familiare, gli amici, le relazioni di coppia, le relazioni lavorative. Attraverso le costellazioni familiari è possibile sciogliere e liberare quel flusso nel cuore che è stato interrotto.